Salve a tutte e tutti, oggi in una lezione di filosofia parliamo dell'umanesimo e del rinascimento. In particolar modo andremo a dimostrare come affrontiamo un unico grande periodo della storia che va dalla fine del 1300 alla fine del 1500 e che ha un primo periodo iniziale che si sviluppa soprattutto in Italia, caratterizzato dall'umanesimo che poi diventa il rinascimento nel suo complesso. Infatti dobbiamo dire che siamo di fronte al primo grande movimento della modernità. È un movimento dunque che interessa l'arte, il pensiero, la politica, la filosofia, la cultura nel suo complesso. Nasce in Italia verso la fine del 300 e in un primo tempo si diffonde principalmente in Italia per poi raggiungere il resto dell'Europa nel corso della seconda metà del 400 e soprattutto del 500. È un movimento che segna il passaggio dalla fine del Medioevo all'inizio della modernità e rinnova tutti gli ambiti del sapere ma anche la Weltanschauung europea, ossia cambia completamente la percezione che l'uomo ha di se stesso, che l'uomo ha degli altri e anche che l'uomo ha della natura. Per tanto tempo, almeno fino alla fine dell'Ottocento, si è ritenuto che l'umanesimo fosse un primo movimento autonomo che riguardasse soltanto l'Italia del 1400 e che il Rinascimento fosse invece un movimento tipico dell'intera Europa e del 500. Oggi invece siamo portati a dire che siamo di fronte ad un unico grande movimento di pensiero artistico, culturale e filosofico che si chiama Rinascimento all'interno del quale una componente fondamentale è l'umanesimo. Questa distinzione funziona meglio perché appunto alcuni dei tratti tipici del Rinascimento europeo hanno la loro origine all'interno dell'umanesimo italiano e sarebbe riduttivo non considerare quanto l'umanesimo sia una parte costitutiva del Rinascimento nel suo complesso. Permangono comunque alcune piccole differenze che è bene sottolineare. Innanzitutto l'umanesimo ha diffusione principalmente in Italia nel 1400 e segna una rinascita dell'attenzione per le umane littere cioè per la letteratura, particolarmente la letteratura latina e greca e da lì una nuova attenzione ad alcuni aspetti della vita dell'uomo. Questa particolare attenzione all'uomo nel suo complesso si ravvisa poi in tutti gli ambiti del sapere a prescindere dalla lettura dei classici nel movimento compiuto nel 500. Allora dobbiamo per collocare al meglio questo movimento dare alcune coordinate storico-politiche. Innanzitutto siamo alla fine del Medioevo e all'inizio dell'età moderna e come tutti i grandi mutamenti epocali anche questo non è un mutamento che si dà nella percezione dei contemporanei cioè chi si trova a vivere in questo momento della storia non sente di essere un uomo completamente nuovo eppure noi con il distacco di diversi secoli cogliamo alcune delle differenze importanti ma non dobbiamo in questo senso fare propria quella lettura che vede il Medioevo come millennio buio e il Rinascimento come periodo tutto rosio e tutto illuminato non è così, ci sono ovviamente dei tratti di continuità fra il Medioevo e il Rinascimento. Comunque ci sono dei tratti di discontinuità che noi dobbiamo sottolineare il primo dei quali è che entrano definitivamente in crisi i poteri universali dunque da una parte entra in crisi l'impero come strumento politico capace di dominare almeno militarmente l'intero territorio europeo che è sempre stato però se ci pensiamo nel Medioevo più un afflato che una condizione reale entra in crisi anche il potere universale della Chiesa in questo contesto nascono gli stati moderni la cui caratteristica è quella di avere un potere accentrato e monocratico che esigendo le tasse dai sudditi raccoglie un esercito che è in grado di garantire la sicurezza e il controllo dei confini e dunque la sicurezza dell'intero territorio questa situazione che caratterizza gran parte dell'Europa occidentale principalmente la Spagna, la Francia e l'Inghilterra non caratterizza le due località che erano state sede dei due grandi poteri medievali in particolare la situazione si rende subito evidente in Italia nel secolo successivo o nel XVI anche nei territori tedeschi l'Italia a differenza del resto dell'Europa è caratterizzata dalla presenza di stati regionali cinque grandi stati regionali nessuno dei quali è in grado di sottomettere gli altri ma nessuno dei quali è tanto debole da lasciarsi assoggettare e quindi tutto il 1400 è caratterizzato prima da una fase di scontro fra i cinque grandi stati che arriva al culmine con l'equilibrio rappresentato dalla pace di Lodi poi abbiamo 40 anni di equilibrio che vengono spazzati via dalle spedizioni francesi in Italia che iniziano come sappiamo nel 1494 da un punto di vista sociale abbiamo l'espandersi ancora di più della civiltà urbana civiltà urbana che comunque è nata nel medioevo questo non ci deve spingere a credere che tutti risiedessero in città e che le campagne fossero spopolate ma comunque la civiltà urbana inizia ad avere una serie di intellettuali e di professionisti che dominano la cultura di questo periodo e anche l'economia che pure resta fondata sull'agricoltura vede un incentivarsi del commercio e dello scambio della moneta nasce di conseguenza una nuova aristocrazia urbana che sarà lo strumento in grazia del quale potrà affermarsi un nuovo tipo di cultura che è quella appunto rinascimentale perché l'intellettuale del rinascimento questa è un'altra grande novità è un laico badiamo bene che laico non significa ateo è magari anche un uomo che ha profonda fede ma non è un uomo di chiesa all'inizio questi uomini di cultura del rinascimento sono esponenti della ricca borghesia cittadina e in un secondo momento diventano professionisti al servizio delle famiglie più ricche e influenti delle più importanti città e in questo senso abbiamo una riscoperta del mecenatismo rinascimento già dal termine siamo di fronte ad una nuova nascita che cosa rinasce? torna in auge quindi rinasce l'idea che bisogna individuare un principio l'idea che bisogna ritornare alla prima grande nascita della cultura quindi al mondo classico e dunque abbiamo una riscoperta della filologia e un utilizzo precipuo della filologia abbiamo soprattutto e questo è l'aspetto fondamentale una nuova concezione dell'uomo l'uomo che si sente al centro della vita nel mondo e che deve studiare che cos'è l'uomo quindi una ritrovata attenzione all'antropologia quali sono i rapporti fra l'uomo e gli altri uomini quindi una rinata attenzione per la filosofia politica e quello che viene definito umanesimo civile e il rapporto dell'uomo con la natura che porta ad un rinnovamento delle arti, delle scienze e ad una nuova concezione della tecnica il ritorno ai classici fa sì che si sviluppi questa nuova attenzione per questi temi che erano già stati battuti nell'antichità in particolar modo per quanto riguarda la filosofia abbiamo un ritorno allo studio di Platone e di Aristotele nascono due grandi centri di cultura dei quali quello di Firenze si dedica con tanti esponenti allo studio di Platone e quello di Padova ancora oggi è così si dedica allo studio di Aristotele è possibile tornare a studiare il greco anche perché in questa fase grazie all'intervento di Coluccio Salutati viene chiamato nei territori italiani Emanuele Crisolora e costruisce il primo che istituisce una cattedra di lingua e cultura greca in Italia quindi è la prima cattedra europea di lingua e cultura greca la nuova attenzione per la filosofia e per la filologia si deve soprattutto all'impegno di Lorenzo Valla in particolar modo nel 1440 Lorenzo Valla riuscì a dimostrare con gli strumenti della filologia la falsità della donazione di Costantino come accennavo abbiamo una nuova concezione dell'uomo un uomo che non è slegato da Dio non è un uomo ateo ma è un uomo che vuole capire qual è il proprio posto nel mondo che cosa può fare al mondo quali sono le sue possibilità stando egli al mondo e l'espressione che meglio rende questo nuovo atteggiamento è un'espressione tratta dalla cultura latina citata anche da Sallustio e attribuita a Appio Claudio il Cieco Faber est sue quisque fortune quindi quisque ognuno est Faber è artefice Faber vuol dire artefice no Fabro sue fortune della propria sorte anche fortuna e vox media latino vuol dire sorte non vuol dire buona sorte fortuna abbiamo una riscoperta della natura che porta allo svilupparsi in filosofia di due grandi filoni il primo filone è il filone magico cioè quello che tenta di andare ad individuare se nella natura e nel comportamento della natura siano insite, siano immanenti delle forze magiche poi un secondo atteggiamento che è fondamentale che è l'atteggiamento osservativo della natura quindi l'uomo si mette ad osservare e accogliere le eventuali leggi universali che presiedono al comportamento della natura e così nasce la scienza moderna in questa fase nasce anche una nuova attitudine nei confronti della tecnica la tecnica dell'antichità era una serie di strumenti a disposizione della divinità e quando l'uomo se ne appropriava se ne appropriava solo e soltanto perché qualche titano rubava queste tecniche agli dei e le donava agli uomini invece in questa fase nasce una nuova idea della tecnica che è tutta umana perché l'uomo a differenza degli altri animali oltre ad avere il linguaggio e la ragione ha anche un altro strumento cioè l'utilizzo della mano in grazia della quale può non solo conoscere la natura ma plasmarla per i propri bisogni e qui in nuce che nasce il concetto di tecnica moderna le maggiori innovazioni si hanno nell'arte e vediamo qui Michelangelo un'arte, la scultura soprattutto a tutto tondo ma abbiamo anche l'utilizzo di una serie di strumenti che hanno una ricaduta pratica tipo l'astrolabbio e qui ho riportato le macchine inventate da Leonardo da Vinci voglio infine per quanto riguarda le coordinate storiche dare conto delle tre date alle quali possiamo fare riferimento come date simbolo della nascita del rinascimento quindi la fine del Medioevo e l'inizio della modernità la prima è il 1453 che rappresenta la caduta di Costantinopoli ma la fine dell'unità del Mediterraneo e quindi la necessità dell'uomo di trovare altre rotte per poter raggiungere i territori estereuropei è proprio grazie a ciò che si cominciano a studiare delle rotte atlantiche e proprio nello studio delle rotte atlantiche come sappiamo nel 1492 ecco la seconda data abbiamo la scoperta dell'America che segna anche simbolicamente il coraggio di attraversare le colonne d'Ercole di andare a guardare ad un mondo più ampio del piccolo mondo chiuso che si trova intorno al Mediterraneo al mare Nostrum terza grande data è il 1517 che è la data in cui inizia la predicazione di Martin Lutero importante per noi perché anche questa predicazione di Martin Lutero rompe un equilibrio in questo caso si rompe l'unità religiosa europea però faccio notare che tutti gli equilibri che vengono a rompersi l'unità del Mediterraneo la ricerca di nuove rotte commerciali l'unità religiosa dell'Europa comportano innovazioni e nuove scoperte è così che nasce la modernità una modernità che voglio ripeterlo mette al centro l'uomo in tutte le sue declinazioni non è un uomo ateo non è un uomo che non ha rapporti con Dio ma è un uomo che vuole prima di tutto capire che cosa egli stesso è in che rapporto è con gli altri uomini e in che rapporto è con la natura dunque c'è un ritorno a questi temi quello antropologico e quello della Fusis tipici dell'antichità che rinascono con un nuovo atteggiamento che vede un ruolo attivo e fattivo del soggetto che è perfettamente ravvisabile nella innovazione relativa alla tecnica tecnica che non è più una serie di strumenti divini sottratti alla divinità per l'uomo ma una serie di strumenti tutti umani con i quali l'uomo sottomette la natura ai propri bisogni è qui che nasce il soggettivismo che arriverà alle estreme conseguenze alla fine della modernità cioè nel XX secolo io vi ringrazio per l'attenzione spero che questo breve video sia utile come introduzione alla storia della filosofia moderna e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti